L'associazione Io sono partita IVA con il patrocinio del Comune di Manfredonia vi presenta Luci del Golfo 2022 Dal 6 novembre al 6 gennaio 2023 la città di Manfredonia si accende di luci e colori generando magia negli occhi di chi sa sognare Uno spettacolo unico in Italia vi aspetta per regalarvi emozioni speciali Buone feste a tutti Grazie